La priorità nella scelta di un mobile è spesso data dalla caratteristica del disegno del mobile, dalle colori, dalle superfici. Perché nessuno mai valuta la sicurezza, resistenza e durata? Cattas ha questo compito, fa queste verifiche seguendo delle norme internazionali. Nel campo del mobile le prove per verificare la sicurezza sono molteplici. Questo è perché il mobile è composto da vari componenti, quindi possiamo avere prove che riguardano le ante nelle varie tipologie, quindi ante battenti, ante scorrevoli, ante a ribalta, così come le prove riguardanti i cassetti, prove di durata dei cassetti, prove di resistenza al carico applicando delle masse in verticale sul frontalino, a prove soprattutto che vanno a verificare la stabilità. La stabilità è uno degli aspetti più importanti nel campo del mobile. Infatti una delle maggiori cause di incidenti è proprio il ribaltarsi del mobile, causa spesso un uso improprio, ma ciò non toglie che questo possa avvenire. Si va quindi a verificare innanzitutto questo aspetto applicando delle forze orizzontali verso l'esterno che vanno a verificare la resistenza al ribaltamento dei mobili. Di fianco a me vedete una serie di attestati che riguardano pannelli a bassa emissione di formaldeide e vernici con comportamenti importanti nel caso della verniciatura di legno per esterni. Vi è capitato sicuramente anche a voi di portare a casa dei mobili nuovi che hanno degli odori particolari. Catas è in grado di determinare se questi odori sono fonte di pericolo per voi e per i vostri familiari e nello stesso tempo di verificare che le vernici che usate per il legno per esterni abbiano una durata sufficiente. Alla fine delle prove il Catas rilascia un rapporto di prova che è un documento che certifica la conformità alle norme dei prodotti provati.